Prendiamo la pasta sfoglia e la teglia che andremo ad utilizzare, questa è una teglia da 22 cm. Prendo il cartoncino del rivestimento della pasta sfoglia, aggiungo un cucchiaio di acqua a un uovo, aggiungo un po' di zucchero e cuocio in forno per circa 20 minuti. Metto le pesche in una ciotola, aggiungo due cucchiai di amido di mais, 40 g di zucchero di canna, scoliamo, messiamo in una teglia da 22 cm, cuociamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Mmm, troppo buono! Prendiamo la pasta sfoglia e aggiungo due cucchiai di acqua a un uovo. Grazie!